La seconda parte della logica trascendentale è la dialettica trascendentale. Con questa parte della critica della ragione pura si chiude la dottrina trascendentale degli elementi, cioè la prima parte della critica della ragione pura, che come avevamo detto all'inizio si divide in due grandi parti, dottrina trascendentale degli elementi e dottrina trascendentale del metodo, dove con il termine dottrina il filosofo intende la trattazione sistematica, cioè il termine dottrina sta per trattazione sistematica, scusate la ripetizione, ma è necessario per chiarire dove situare le varie parti della critica della ragione pura. Iniziamo subito col dire che cosa intende Kant con il termine dialettica. Il filosofo tedesco in parte si sta rifacendo ad una tradizione scolastica di origine aristotelica che separava l'analitica, intesa come logica della verità, dalla dialettica, intesa come logica dell'apparenza. Infatti per Aristotele nell'analitica veniva trattata la deduzione sillogistica che muoveva da premesse vere e giungeva a conclusioni vere. Nella dialettica invece si parte da opinioni probabili che fungono da premesse. Dunque le conclusioni a cui perviene il sillogismo nella dialettica sono anche esse probabili, ma si badi bene, queste opinioni, secondo Aristotele, sono endoxa, cioè degne di stima, perché condivise da molti. Infatti dialettica è il ragionamento che implica una dimostrazione con gli altri, sempre secondo Aristotele. Questo è un punto da tenere bene a mente nel proseguo del nostro lavoro di analisi del testo kantiano. Detto ciò torniamo a Kant. In primo luogo va detto che la prima differenza tra analitica trascendentale e dialettica trascendentale è una differenza che si pone sul piano delle facoltà. La facoltà studiata dall'analitica è l'intelletto, mentre la facoltà studiata dalla dialettica è la ragione. La prima viene definita da Kant facoltà delle regole, la seconda facoltà dei principi, dove per regole Kant intende i giudizi con le relative categorie, nella misura in cui queste si identificano con le forme logiche del giudizio. Per principi il filosofo intende conoscenze sintetiche, ricavabili da concetti. Ora il principio a sua volta è sempre un giudizio, ma a differenza dei giudizi dell'intelletto, non vi è una categoria che sussume un molteplice nell'intuizione, perché il molteplice che viene sussunto nel principio è un molteplice concettuale. Sono più giudizi che danno luogo ad un'idea, ma facciamo parlare Kant. Dice il filosofo, se l'intelletto può essere una facoltà dell'unità dei fenomeni mediante le regole, la ragione è la facoltà dell'unità delle regole dell'intelletto sotto principi. Essa, dunque la ragione, non si indirizza mai all'esperienza in un modo diretto, ma all'intelletto per imprimere alle conoscenze molteplici di questo un'unità razionale, discorsiva. Ma che cosa intende il filosofo con l'espressione unità razionale discorsiva? Tenendo presente che la ragione è il medesimo intelletto, spinto oltre il limite del condizionato, oltre il limite del fenomenico, ed essendo la ragione come l'intelletto spontaneità che si manifesta nella produzione autonoma del concetto, ed essendo autonoma a sua volta dall'oggetto e dal molteplice empirico, la ragione come l'intelletto produce concetti. Questi concetti sono le tre idee che formano l'ossatura della dialettica trascendentale, Dio, Anima, Mondo. Giunti a questo punto si comprende il tema della dialettica. La domanda è possibile la metafisica come scienza? Qui Kant sta intendendo, seguendo la partizione wolfiana tra metafisica generale e metafisica speciale, la trattazione della metafisica speciale. Per metafisica generale si intendeva una teoria generale del lente, mentre per metafisica speciale si intendeva, nell'illuminismo tedesco, lo studio di Trenti ha appunto detti speciali, Dio, Anima e Mondo. Ora, intesa in questo secondo senso, la metafisica non è possibile, mentre come teoria generale del lente, secondo Kant è possibile nella misura in cui l'analitica trascendentale e l'estetica trascendentale ci forniscono le condizioni per una teoria del lente che affetta i nostri sensi. Kant con il termine dialettica intende la logica che è alla base di quell'apparenza trascendentale, di quell'illusione trascendentale, in virtù della quale noi attribuiamo una realtà noumenica a giudizi meta-impirici, che sono sì trascendenti, ma non fondati, perché le categorie hanno solo un uso valido, che è quello empirico. L'illusione trascendentale è connaturata alla ragione, perciò le tre idee, Dio, Anima e Mondo, che derivano da questa illusione trascendentale, potremmo dire che per Kant sono anch'esse endoxa come erano le opinioni per Aristotele. perché sono connaturata alla ragione stessa, quindi la ragione non può non pervenire a questi tre grandi concetti. Ciò significa che la metafisica come scienza non è possibile, ma è possibile come disposizione dell'animo a trascendere il condizionato. Questa è una disposizione ineliminabile. Attenzione, ma di questa disposizione il filosofo ne ha parlato già all'inizio della critica della ragione pura, nella prefazione alla prima edizione. Diceva Kant, la ragione umana, in una specie delle sue conoscenze, è il destino particolare di essere tormentata da problemi che non può evitare, perché le sono posti dalla natura stessa della ragione, ma dai quali o dei quali non può trovare la soluzione, perché oltrepassano ogni potere della ragione umana. vedete come è singolare questa affermazione kantiana, cioè la ragione umana nelle conoscenze metafisiche, nel tentativo di conoscere enti metafisici, ha questo destino particolare, cioè non può non essere tormentata da questi problemi, non li può evitare, perché se li pone essa nel suo procedere argomentativo, ma dai quali essa non può trovare soluzioni, perché oltrepassano il suo potere. Ora poi, tornando alla dialettica trascendentale, Kant parla della ragione nel suo duplice uso, uso logico e uso conoscitivo-regolativo. L'uso logico della ragione è il sillogismo. La ragione nel formulare un sillogismo produce un giudizio, che è la conclusione del sillogismo, che si ottiene sussumendo la premessa minore intesa come condizione del giudizio sotto una regola universale. La premessa maggiore. La tavola dei sillogismi fungerà da filo conduttore per duedurre le idee della ragione. La ragione tramite i sillogismi cerca per una conoscenza condizionata una condizione, e così in una serie vertiginosa. La ragione perciò avverte il bisogno di presupporre la totalità delle serie di condizioni. Per fare un esempio, per esemplificare questo concetto kantiano, possiamo pensare all'intelletto che ha sintetizzato una serie di fenomeni, uno dopo l'altro, secondo i nessi di causa-effetto, ma tenta di salire più sopra. E nel tentativo di salire più sopra deve pervenire a qualcosa che è al di fuori della serie delle condizioni del condizionato, dove condizione e condizionato sono i fenomeni che si implicano in modo vicendevole nei nessi di causa-effetto. Ora, la conclusione del sillogismo, in tal caso, è possibile solo presepponendo la totalità delle condizioni, ma come si vede, la ragione umana non può mai giungere alla totalità delle condizioni. È un presupposto che essa articola, ma non raggiunge. Secondo Kant, vi sono tre modi secondo cui la ragione costruisce sillogismi. Da questi tre modi si perviene a tre idee, a tre concetti dell'incondizionato, dove incondizionato significa totalità della serie delle condizioni. Avremo quindi l'anima come idea psicologica, il mondo come idea cosmologica, l'essere supremo come idea teologica. La prima idea trascendentale, cioè l'anima, comprende l'assoluta, incondizionata unità del soggetto pensante. Tale idea darà luogo alla psicologia razionale. La seconda idea trascendentale comprende l'incondizionata unità della totalità della serie delle condizioni del condizionato, la totalità dei fenomeni, la totalità delle cose esistenti. Tale idea darà luogo alla cosmologia razionale. La terza idea trascendentale è l'idea di Dio. Questa comprende la totalità incondizionata degli esseri nella misura in cui contiene la condizione suprema della possibilità di tutto ciò che può essere pensato. Ricordiamo la definizione kantiana di idea come concetto necessario della ragione al quale non è dato trovare un oggetto adeguato nei sensi, perché ovviamente la totalità delle condizioni del condizionato cade fuori dai nissi spazio-temporali. All'interno dei nissi spazio-temporali possono essere date soltanto un certo numero di fenomeni, ma mai la totalità, mai l'insieme. Di queste tre parti, idea, di queste tre parti, scusate, che compongono l'ossatura della dialettica trascendentale, noi tratteremo solo della terza parte, dove Kant tratta delle prove dell'esistenza di Dio. Questa nostra scelta, motivata per dare un certo taglio al nostro videocorso, taglio che non potremmo dare se avessimo dovuto affrontare la totalità degli argomenti kantiano. Il filosofo tedesco muove le sue argomentazioni dalla prova antologica. Non è possibile dimostrare l'esistenza di Dio facendo leva sul concetto di ente perfettissimo che assomme in sé tutti i predicati possibili, perché secondo Kant l'esistenza non è un predicato. L'esistenza è posizione assoluta di una cosa, mi è data solo dall'esperienza. Su questo punto, vi è piena convergenza tra Kant e Tommaso d'Aquino. Ma per Kant non si può passare dal piano del pensiero al piano dell'essere, dall'idea dell'ente concreto all'idea di un ente che non si dà mai nella nostra esperienza concreta. Afferma Kant, con un'immagine icastica celebre all'interno della storia della filosofia, cento talleri reali non contengono assolutamente nulla di più di cento talleri possibili, ma rispetto allo stato delle mie finanze, nei cento talleri reali c'è di più che nel semplice concetto di essi, cioè nella loro pensabilità. In realtà cosa possiamo dire di fronte a questa immagine kantiana? Cento talleri reali sono spendibili, potremmo dire, scherzando, ma in realtà Kant vuole mettere l'accento nella differenza tra ciò che è reale e ciò che invece è solo pensabile, che ciò che è reale è ciò che noi veramente incontriamo. Anche se il pensabile è privo di contraddizione dal punto di vista logico, non significa che ciò noi lo possiamo incontrare nella nostra esperienza reale. La seconda prova dell'esistenza di Dio che Kant critica è la prova cosmologica. Per prova cosmologica si intende quella che muove dall'esperienza considerata come effetto per giungere a Dio, come causa della totalità delle condizioni del condizionato, cioè l'insieme di tutte le esperienze possibili, Dio è inteso come la causa di tutte le esperienze possibili. Tale prova, conosciuta nell'ambiente accademico laibniziano come a contingenzi a mondi, recita secondo Kant se qualcosa esiste allora deve esistere anche un essere assolutamente necessario, ma perlomeno io stesso esisto, dunque esiste un essere assolutamente necessario. La premessa minore contiene un'esperienza e quella maggiore è la conclusione di un'esperienza in generale relativa all'esistenza del necessario. La prova dunque comincia dunque comincia con un'esperienza e poiché l'oggetto di ogni possibile esperienza si chiama mondo essa viene chiamata cosmologica. La prova kantiana o meglio la ricostruzione che Kant fa della prova cosmologica muove nella sua premessa maggiore da un'affermazione generale dato un ente empirico qualcosa che esiste in modo finito deve essere dato anche un ente necessario. Nella premessa minore si afferma l'esistenza di un particolare ente di cui non possiamo non avere conoscenza l'io il nostro ego invece nella premessa maggiore viene considerato per un verso il legame tra empirico e necessario per un altro il nesso tra l'esperienza e un bisogno della ragione. Ciò che viene affermato nella premessa maggiore secondo Kant è legittimo da un punto di vista prettamente logico ma non sotto il profilo ignosiologico perché il filosofo afferma che è naturale per la nostra ragione giungere a questa conclusione dato un esistente dunque un ente contingente di cui io faccio esperienza non posso non pensare che sia dato anche un esistente necessario naturale in questo contesto significa che la ragione è necessitata a pensare in questo modo non può non pensare altrimenti dato un contingente non posso non pensare ad un ente necessario sembra quasi di sentire cartesio non posso pensare il monte senza pensare alla valle inoltre la necessità di dare passaggio da empirico a necessario si fonda su di un bisogno proprio della ragione trovare una condizione prima un ente primo su cui si regge un'intera serie di condizioni questa esigenza della ragione questo bisogno della ragione la ragione non lo può sopprimere e questo bisogno è individuare un inizio primo alla serie delle cose dunque il desiderio della ragione è trovare l'incondizionato ma tale desiderio è avvertito in una maniera così forte dalla ragione da essere definito bisogno poi deve essere debitamente considerato che una tale esperienza di un essere necessario non si dà mai infatti cante consapevole che ciò che vale solo sul piano logico speculativo non vale sul piano gnoseologico dato che ogni ente conosciuto è sempre empirico sottoposto a condizioni spazio-temporali ragion per cui posso sempre individuare un ente precedente all'ente dato tale conclusione contenuta nella primessa maggiore non può essere assunta in modo del tutto legittima dalla ragione infatti per dimostrare l'esistenza di un essere necessario dovrebbe essere conosciuta dall'intelletto questo essere necessario in condizioni extraspaziali ed extratemporali cante a cui sta operando e sta facendo leva sulla duplice distinzione tra pensare e conoscere l'intelletto pensa con le sole categorie prescindendo dall'intuizione di spazio e tempo dunque l'intelletto può giungere in tal modo anche ad una dimostrazione ineccepibile dal punto di vista formale quando pensa e non conosce ma questo questo ragionamento che ha fatto tramite le categorie non può assumere il valore di una conoscenza perché è primo di un molteplice spazio-temporale perché la molteplicità empirica a sua volta ci è data proprio tramite le intuizioni di spazio e tempo prescindere dunque da queste due intuizioni significa prescindere da una delle due condizioni cioè la materia le sensazioni secondo le quali si può giungere ad una conoscenza per cante ricordiamolo la conoscenza è sintesi di materia e forma dove la forma sono gli apriori di spazio tempo e categorie e la materia è l'insieme delle sensazioni va da sé che senza le intuizioni di spazio e tempo quindi non è possibile per l'intelletto umano agire su una molteplicità empirica cioè esistente Kant attribuisce alla prima parte della prova cosmologica un grande valore e sebbene non sia del tutto corretta da un punto di vista conoscitivo la giudica convincente e persuasiva per la naturalità con cui noi la formuliamo ecco che ritorna il discorso degli endoxa di memoria scusate di memoria aristotelica cioè in realtà credere in Dio e credere in Dio secondo la prova cosmologica quindi in base a questa dimostrazione per Kant non è assurdo ma è degno di nota Kant infatti riconosce la serietà del problema perciò attribuisce un valore persuasivo e convincente alla prova ma è altrettanto consapevole che un'affermazione logica che non trova riscontro nella realtà empirico e monca è sempre suscettibile di essere adoperata in modo dialettico sofistico dalla ragione stessa la necessità che noi vogliamo attribuire alla realtà è secondo Kant un bisogno della ragione tale prova serve a soddisfare l'esigenza di incondizionato che divora l'animo umano insomma per Kant Dio esiste ma la ragione umana non possiede elementi sufficienti per provarlo ma del resto va notato che per Kant essendo l'argomento cosmologico molto convincente mi porta ad una certezza soggettiva ma questa non basta perché la dimostrazione logica per diventare conoscenza avrebbe bisogno di poggiare o su di un'intuizione intellettuale dell'ente sommo oppure di poter intuire nello spazio e nel tempo Dio come causa prima quindi ricapitolando tramite la prima parte della prova cosmologica il soggetto conoscente coglie il nesso necessario contingente mentre nella seconda parte avendo a disposizione una serie di predicati opposti definisco che cosa è questo ente necessario ma in questa definizione deve essere tale da implicare anche l'esistenza perché l'essere necessario si può determinare cioè definire e comprendere in un solo modo tramite il suo concetto dunque nella seconda parte della prova cosmologica non basta più l'esperienza essa ci aveva fornito solo il punto d'appoggio l'inizio per una argomentazione la ragione continua sul sentiero delle proprie argomentazioni solo attraverso concetti ma ciò seguendo i presupposti e l'impianto gnosologico kantiano non è sufficiente è interessante in questa sede notare un'analogia tra Kant e Tommaso d'Aquino per entrambi l'effetto non può non avere una causa e il mondo come effetto non può non avere una causa massima suprema somma Kant esita a definire questa causa a Dio sebbene ne sia convinto perché ciò trascende l'esperienza e oltre i poteri dell'intelletto umano ciò si configurerebbe perciò come un atto di superbia intellettuale per il filosofo di Konigsberg il quale questo atto di superbia intellettuale potrebbe sfociare in atteggiamenti fanatici Tommaso parimenti invece riconosce che le prove dell'esistenza di Dio hanno un valore apologetico teoretico maggiore del valore teologico pratico ricordando le cinque vie che sono base secondo Tommaso d'Aquino per iniziare una discussione con i gentili con i pagani cioè con chi non crede nel Dio cristiano infine Kant critica una terza prova quella che viene definita la prova fisico-teologica la prova che fa leva sull'ordine del mondo dal quale noi possiamo dedurre l'esistenza del Dio il termine fisico-teologica indica letteralmente la finalità della natura dunque la prova fisico-teologica prende in considerazione la finalità l'ordine che è riscontrabile in natura la prova si articola in quattro momenti in quattro passaggi logici primo passaggio nel mondo vi sono tracce di un ordine il quale nel suo stesso attuarsi dal luogo affini realizza scopi facendo un esempio seguendo la mentalità di Kant e tenendo presente ciò che dice in altre opere si può pensare alla costituzione fisica degli africani fatta in modo tale da adattarsi al clima del loro ambiente ricordiamo che Kant insegnò anche geografia e poi aveva considerato il settecento in un secolo in cui ancora il genere umano era diviso in razza ora il fisico è la costituzione naturale di un ente e questa costituzione naturale di un ente risponde ad una finalità precisa una volta che questa finalità viene relazionata al suo ambiente ma questo fine non è costitutivo dell'ente gli è estraneo secondo passaggio logico l'ordine che risponde a fine a fini è sconosciuto alle cose l'accordo tra la struttura delle cose e la loro finalità è un accordo contingente non è necessario secondo Kant una natura diversa non poteva accordarsi in modo spontaneo necessario con un fine adesso estraneo cioè induce a pensare che l'accordo tra mezzi natura mondo fisico e scopi intesi come la vita sulla terra per esempio è dovuto ad un principio intelligente cioè quello che ci vuole dire Kant è che c'è un accordo non abbastanza chiarito non del tutto esplicitato tra la costituzione fisica degli enti intelligenti quindi degli uomini e le condizioni di vita cioè se gli enti umani fossero fatti fossero costruiti in un altro modo nella loro costituzione fisica essi non si potrebbero adattare alla vita ora questa è la base per la prova fisico-teologica ma andiamo a vedere il terzo passo dell'argomentazione kantiana dunque esiste una causa sublime e saggia la quale deve essere la causa del cosmo non semplicemente come una natura onnipotente che agisca alla cieca ma come intelligenza mediante libertà quindi nel quarto passaggio logico di questa prova fisico-teologica secondo Kant si può dedurre mediante l'analogia l'unità di questa causa confrontando l'unità presente nella relazione fra le cose del mondo considerate come elementi di un edificio costruita d'arte per lo meno in ciò a cui giunge la nostra osservazione ora secondo Kant a questa prova così articolata si possono muovere delle critiche in primo luogo verso la quarta parte di questa prova perché l'analogia che viene istituita tra due campi diversi è quello tra naturale e artificiale tra i prodotti della natura e i prodotti della tecnica certo vi è una somiglianza ma questa somiglianza ritrovata dalla ragione naturale tramite il confronto la relazione tra cause ed effetti presenti nei due campi è pur sempre un'attribuzione parzialmente illegittima la ragione pur potendo comparare i due campi non può passare dal piano dell'ipotesi al piano della verifica perché dice Kant non potrebbe giustificare se stessa se volesse passare dalla causalità che conosce a ragioni esplicative oscure e indimostrabili che non conosce infatti una volta istituita l'analogia tra naturale e artificiale la ragione poi non si riesce a spiegare in che modo la causalità divina produca certi effetti nell'universo Kant non sminuisce il valore dell'analogia anzi la valorizza sia come strumento euristico sia come strumento ermeneutico morale ma la ridimensiona sotto il profilo conoscitivo l'analogia ci permette di studiare l'universo sotto un particolare profilo in modo da ritrovare in esso un'unità che ci è ignota se procediamo con le sintesi empiriche effettuate dall'intelletto per esempio mentre la caduta dei gravi è osservabile non lo è la razionalità dell'intero universo dell'intero insieme delle leggi fisiche la quale viene assunta dalla ragione come ipotesi generale in modo da dare coerenza ad un insieme di dati empirici e di leggi fisiche questa ipotesi della razionalità del cosmo per esempio travalica il dato empirico riferendosi ad una totalità che per definizione sfugge ad essere definita tramite una o più leggi fisiche ma è necessaria ed utile allo studioso della natura al fisico il quale riesce a scoprire nuove leggi ma torniamo alle critiche che Kant muove ancora alla prova fisico-teologica secondo il filosofo questa prova muovendo dalla considerazione della contingenza della forma del mondo cioè dal riconoscimento che l'ordine della natura potrebbe essere un altro riuscirebbe al massimo a dimostrare l'esistenza di un architetto del mondo il quale sarebbe sempre fortemente limitato dalle capacità della materia che esso elabora ma non potrebbe dimostrare questa prova che vi sia un creatore del mondo alla cui idea tutto è soggetto si può sempre sostenere che la materia è eterna e necessaria e che Dio abbia impresso le leggi a questa materia come una sorta di demurgo platonico ma il concetto di Dio a cui la ragione mira non è questo Dio è onnisufficiente per la ragione perché viene inteso come la pienezza la totalità del reale se la ragione deve pervenire a questo concetto deve oltrepassare l'ente che è presentato nella prova fisico-teologica e deve fare leva secondo Kant sulla prova cosmologica la quale perviene al concetto di Dio tramite il nesso necessario contingente la prova cosmologica infatti non indaga l'origine dell'esistenza dell'ordine del mondo ma l'origine dell'esistenza stessa del mondo ma a sua volta la prova cosmologica si appella alla prova ontologica perché deve definire con un predicato quello di esistenza questo essere necessario sul quale si regge la contingenza del cosmo ma a questo predicato perviene la prova ontologica sebbene tale prova ci conduca ad una grande certezza dell'esistenza dell'ente sommo cioè la terza prova dell'esistenza di Dio che Kant critica non ci permette questa prova di definirlo in quanto ciò implicherebbe di cogliere l'essenza di Dio infatti sostiene Kant che nulla è entrato da se stesso nello stato in cui si trova tutto rimanda sempre in modo ulteriore ad un'altra cosa come sua causa cosicché in questo modo l'universo intero sprofonderebbe nell'abisso del nulla se non si ammettesse qualcosa che esistendo per sé in modo originario e in modo indipendente al di fuori di questa infinita contingenza sostenesse l'universo e come causa della sua origine ne assicurasse al tempo stesso la durata cioè quello che ci vuole dire Kant che è necessario per la ragione dover accettare l'esistenza di Dio per non rendere il mondo un qualcosa inteso come totalità della serie delle condizioni del condizionato come qualcosa di assurdo dunque per Kant è razionale ed è legittimo sostenere l'esistenza di Dio di una causa intelligente ma è impossibile dire però parimenti che tale causa sia Dio dunque uno dei problemi della filosofia critica è di evitare di affermare l'esistenza di ciò che travalica l'esperienza in quanto ciò può condurre la ragione in contraddizione con sé per un altro per un altro scusate è un ulteriore problema per il criticismo kantiano è sostenere il valore della metafisica sebbene sia un sapere per definizione al di là dell'esperienza la quale perlomeno rivela una tensione verso l'incondizionato come una dimensione propria dell'uomo la metafisica manifesta una tensione positiva verso la trascendenza che se mantenuta entro certi limiti conduce a positivi sviluppi in campo pratico ed epistemologico questo atteggiamento saggio e misurato del pensatore tedesco nei confronti della metafisica è testimoniato dalle seguenti affermazioni relative sempre alla prova fisico-teologica il mondo presente apre davanti a noi uno scenario così smisurato di varietà ordine finalità e bellezza che nonostante le conoscenze che il nostro debolo intelletto ha potuto acquisire al riguardo di fronte a tante così immense meraviglie ogni lingua perde forza ogni numero perde la sua capacità di misurare e i nostri stessi pensieri perdono ogni limitazione cosicché il nostro giudizio sul tutto deve risolversi in uno stupore senza parole ma proprio per questo ancora più eloquente ovunque noi vediamo una catena di effetti e di cause di fini e di mezzi di regolarità nel nascere e nel perire dunque secondo Kant non si può non riconoscere la meraviglia che desta la ricchezza della natura nella varietà dei suoi fenomeni nell'animo dell'osservatore attento ma ciò dice Kant pone in una situazione paradossale l'indagatore della natura perché egli avverte un'intrinseca razionalità del cosmo ma Parimenti avverte che tale razionalità lo sovrasta e smisurata i suoi mezzi conoscitivi sono ridotti minuti rispetto a ciò che vede e a ciò che sente la meraviglia che ha costituito l'inizio della speculazione per i pensatori greci per Kant sembra quasi da doversi porre alla fine del processo conoscitivo lo stupore lasciando senza parole rende impossibile il discorso filosofico indubbiamente Kant cerca di porvi rimedio con altri strumenti speculativi come l'analogia ma è consapevole dello scarto che si pone tra l'uomo in quanto ente razionale finito e l'immensità del cosmo un'immensità che si svela all'indagatore della natura facendo esperienza del limite la contraddizione è per Kant ciò che contraddistingue l'umano l'uomo è un essere che per sua stessa natura è situato in situazioni antinomiche e vale la pena qui ricordare ancora una volta l'incipit della prima prefazione alla critica alla ragione pura la ragione umana in un genere delle sue conoscenze ha un destino particolare quella di essere gravata da questioni che essa non può evitare perché le sono assegnate dalla sua stessa natura di ragione ma a cui non può nemmeno dare risposta poiché tali questioni oltrepassano ogni potere della ragione umana la contraddizione in cui si trova l'uomo nel tentativo di giungere a conoscenze metafisiche è il segno che manifesta la sua natura di essere finito che ha bisogno di altro e dell'altro il limite assume dunque non solo un valore teoretico ma anche etico religioso una ragione non autosufficiente può aprirsi al divino in modo paradossale potremmo dire che se la ragione kantiana riuscisse a dimostrare l'esistenza di Dio ne sarebbe in un certo modo più lontana perché tenderebbe ad assumere un atteggiamento di superbia intellettuale e di autosufficienza speculativa che poco si confa allo spirito del cristianismo che il filosofo non ha mai rinnegato e di autosufficiente